Con la minaccia di una nuova crisi migratoria, la Turchia mette pressione all'Europa. Migliaia di rifugiati hanno attraversato il confine greco da giovedì. Bruxelles difende la dura posizione della Grecia sui migranti privi di documenti. Si tratta di una situazione molto grave e la Grecia ha bisogno di tutto il sostegno dell'Unione Europea, sia della Commissione che degli altri stati membri, ha affermato il commissario agli affari interni. I tre presidenti dell'Unione Europea voleranno in Grecia a martedì e questa settimana verrà convocata una riunione straordinaria dei ministri degli interni per coordinare la risposta al nuovo flusso. Ma resta anche una questione che l'Europa dovrà affrontare, ossia quale sarà il futuro delle sue relazioni con la Turchia e che ne sarà dell'accordo tra Turchia e Europa. Riconosco che la Turchia si trova in una situazione difficile per quanto riguarda i rifugiati e migranti, ha affermato la presidente della Commissione Europea, ma quello che sta facendo non può essere la risposta o la soluzione. Pertanto cerchiamo un dialogo intenso con la Turchia. I ministri degli esteri dell'Unione Europea dovrebbero incontrarsi venerdì per attuare una strategia, ma quali sono le opzioni per l'Europa? Secondo gli analisti non esistono alternative alla cooperazione tra Unione Europea e Turchia. L'accordo del marzo 2016 è stato gravemente danneggiato. I greci dicono che non vogliono farsi carico dei rimpatri, mentre i turchi dicono che l'accordo è ancora valido, ma vogliono qualcos'altro. Quest'accordo è in serio pericolo in questo momento, ma non c'è motivo di abbandonarlo, perché il destino dei siriani in Turchia è difficile e devono ancora essere aiutati. Pierini definisce la situazione di frontiera una crisi artificiale creata dalla Turchia per ragioni tattiche interne. Tuttavia, Ancara deve tornare presto in sé, poiché il paese non può permettersi una pausa economica dall'Unione Europea.